Ciao ragazze, allora nuovo video! Per questo video ho pensato di parlarvi di tutte le idee regalo che possiamo trovare proprio in queste settimane da Lidl. Saranno quindi delle idee regalo molto molto economiche, quindi con prezzi davvero bassissimi, ma alcune di queste già vi anticipo che hanno una qualità molto buona, degli ingredienti ottimi. Ci tengo a precisare però che sicuramente in questo video vedrete anche dei cofanetti regalo o comunque dei prodotti non con buon inci, questo perché magari nel video vi raggrupperò tantissimi marchi, sia bio che non, che possiamo trovare appunto in tutte le filiali in queste settimane. Partiamo dai cofanetti regalo disponibili dal lunedì 26-11 fino ad esaurimento scorte. Tutti questi prodotti infatti non sono in linea permanente, quindi non si trovano fra l'assortimento Sien o fra i cosmetici Lidl, ma nei reparti predisposti appunto per tutte le promozioni che vanno a scemare, cioè quando terminano non si trovano più. Per prima cosa ho visto in queste settimane da Lidl questo cofanetto che alla fine ho deciso di acquistare perché davvero ha un prezzo ottimo, ossia di 9,99€ e all'interno contiene dei cosmetici addirittura certificati ICEA. Vi ho già parlato di questo cofanetto della Natura Verde Bio in uno degli ultimi video, ve lo lascio linkato qui sopra. E contiene crema viso nutriente illuminante da 50 ml, detergente scrub esfoliante purificante da 75 ml, in più troviamo in regalo una spugna viso. Adesso naturalmente la apriamo insieme per vedere nel dettaglio tutti i prodotti. Questa profuma anche la spugnettina di Natura Verde Bio in omaggio. Abbiamo poi lo scrub, ossia olio d'oliva, detergente scrub, 99% di origine naturale per tutti i tipi di pelle con aloe vera in gel. Questo praticamente è uno scrub per il viso certificato ICEA che contiene 75 ml di prodotto e ha un pao di 12 mesi. Ainci, ottimo! Ed infine abbiamo anche la crema viso nutriente e levigante, 98% di ingredienti di origine naturale, a base di olio d'oliva con aloe vera. È certificata ICEA, è naturalmente adatta per lo più per pelli secche, essendo comunque una crema viso molto nutriente. Contiene ingredienti ottimi, la confezione è da 50 ml e all'interno, come potete vedere, si presenta in questo modo. Due cofanetti regalo dedicato per lo più ai bambini sono poi questi da 8,99 euro e sono della Disney, di Spider-Man e di Frozen. Il cofanetto Spider-Man contiene un eau de toilette da 50 ml e uno shower gel da 75 ml e stessa cosa anche il cofanetto di Frozen. 50 ml di profumo eau de toilette e 75 ml di shower gel. Ragazzi, io ho visto già questi cofanetti da Lidl e devo dirvi che non hanno proprio un buon inchi, però davvero sembrano delle ottime idee regalo, soprattutto magari per i più piccolini, a un prezzo molto vantaggioso. Sono rimasta poi un pochettino interdetta perché nel mio punto vendita non ho trovato questa confezione regalo, bagnodoccia e candela della Tesori d'Oriente, 7,49 euro. Le confezioni sono disponibili in tre profumazioni. Io ragazzi ero convinta appunto di trovare questi prodotti, di vedere appunto se hanno un buon inchi di parlarvene in un video, ma da me proprio non ho trovato nulla. O quando sono andata io erano già terminate, oppure non so che dirvi, questa volta non sono stata molto fortunata. Poi, al prezzo di 10,49 euro, ho visto disponibile una box regalo, sempre di Tesori d'Oriente, che contiene bagno crema aromatico, profumo aromatico, doccia crema aromatica, in 5 diverse fragranze. E ragazzi, anche questi prodotti Tesori d'Oriente credo che da me non siano proprio arrivati. Fatemi sapere anche voi ragazze se per caso avete trovato questi cofanetti e se li avete acquistati, come vi siete trovate, bene o meno. Passiamo ora alle offerte che sono disponibili dalla prima settimana di dicembre fino ad esaurimento scorte. In primis parliamo naturalmente della linea Vivo di Natura, di cui troviamo in agno crema, disponibili in tre fragranze, cioccolato e arancia, vaniglia e miele e Christmas cookie. Hanno dei packaging davvero molto carini, un prezzo di 2,49 euro e ogni confezione contiene 250 ml di prodotto. Purtroppo ragazze, questi bagno crema non hanno proprio un buon inci. Ancora di Vivo di Natura ho da parlarvi di due confezioni regalo. La prima è quella di Vivo di Natura Bio, cofanetto regalo donna, della linea Soffice Abbraccio. Ha un prezzo di 9,99 euro ed è un cofanetto composto da prodotti certificati Biosline. Già lo scorso anno ho acquistato questo cofanetto e devo dirvi che ho provato la maggior parte dei prodotti. All'interno troviamo bagno doccia, burro corpo, crema mani e stick labbra. Il bagno doccia, come vi ho detto già in altri video, l'ho utilizzato, mi sono trovata molto bene. Ha un profumo ottimo e ve lo consiglio assolutamente. Questo invece è il burro corpo, che praticamente ha la stessa fragranza del bagno doccia. Quindi questo profumo vanigliato dolce e buonissimo. La confezione contiene 150 ml di prodotto, ha un paio di 6 mesi. E come tutti i prodotti contenuti nella box, hanno un inci ottimo. E vi consiglio assolutamente di provarli. Questo mi è piaciuto molto. Proseguiamo poi con la crema mani, che ha più o meno lo stesso packaging esterno del burro corpo e del bagno doccia. Contiene 75 ml di prodotto, anche questo ha inci ottimo. E un profumo pazzesco, naturalmente simile al bagno schiuma e al burro corpo. Infine non mi sono trovata molto bene con lo stick labbra, ossia con il burro cacao contenuto nella confezione. In quanto non è molto adatto alle mie labbra, che tendono ad essere troppo secche. Sempre di vivo di Natura Bio, ho visto a 6,99 euro il cofanetto uomo, contenente due prodotti, ossia lo shampoo doccia e la crema dopo barba. E anche in questo caso, entrambi i prodotti hanno inci ottimo. E se volete fare un regalo per un maschietto, ve lo consiglio assolutamente. Cofanetto regalo Wings e Jurassic, che è composto da spazzolino elettrico, dentifricio e bicchiere e matite colorate. Prezzo 7,99 euro. Ho visto entrambi questi cofanetti in questi giorni da Lidl e devo dire che hanno un prezzo ottimo per i prodotti che contengono all'interno. Sono davvero una delle più belle idee regalo per bambini che abbia visto da Lidl. Proseguiamo poi con tutti i prodotti Nivea. Sono davvero tantissimi, ma ragazze, già vi avviso che non hanno un buon inci. La scatola regalo Nivea Baby, prezzo 8,79 euro, composta da shampoo, crema soffice e crema viso. Tre confezioni regalo da uomo, Genius Champion Explorer, prezzo 7,69 euro. Infine, scatola regalo da donna, ne abbiamo due ancora di Nivea, prezzo 6,89 euro. Infine, una confezione regalo Maybelline che sinceramente avrei voluto acquistare è questa che contiene una trousse di ombretti, matita occhi e pochette. Premetto che nessuno dei prodotti contenuti all'interno ha un buon inci, però mi ha allettato molto il prezzo di 12,99 euro, soprattutto perché la palette contiene 12 colori. Il problema è che quando sono andata da Lidl ho visto che tutte le colorazioni della palette sono shimmer. Non ne ho vista neanche una matte, quindi utilizzando poco questa tipologia di ombretto, alla fine ho desistito. Comunque, se cercate una palette più colorata, completa anche di matita nera, ve la consiglio assolutamente perché ha un prezzo davvero vantaggioso. Ok ragazze, per prima cosa scusate questo cambio di trucco, cambio di tutto, cambio di me stessa, ma ho pensato di unire al video che avete appena visto questa clip, perché speravo di riuscire a pubblicare quel video riguardante tutte le idee regalo Lidl e poi di farne uno nuovo dove vi raggruppavo le ultime che ho visto nei nuovi volantini. Però ragazze, scusate, ma dicembre per me è un mese molto pieno, ho davvero pochissimo tempo e tantissimo lavoro da fare. Ho deciso di farvi questa clip appunto per parlarvi ancora delle ultime novità che ho visto negli ultimi due volantini Lidl, perché ci sono davvero delle bellissime idee regalo. Con il volantino che è partito il 10-12 e ragazze vedrete che troverete ancora questi giorni i prodotti di cui vi sto parlando, ho visto nuove idee regalo. La prima è la confezione regalo LOL e Superman da bambino e da bambina, prezzo 5,99€, contiene in entrambi un doccia shampoo e un gadget. Seguendo per 8,49€ abbiamo il cofanetto regalo bellezza pura acqua di rose e contiene crema idratante e tonico alle rose. Ho trovato questo cofanetto proprio ieri che sono stata da Lidl e ho visto che entrambi i prodotti non hanno un buon inci, quindi alla fine non l'ho acquistato. Poi 6,99€ ho trovato due cofanetti, sono della marca Giardino dei Sensi, confezione regalo, rose preziose o argan, è infatti disponibile in due fragranze e contiene doccia shampoo e crema fluida corpo. Ma la cosa bella è che quando sono arrivata da Lidl e ho visto queste confezioni regalo, ho notato che in primis sono certificate biologiche, quindi entrambi i prodotti contenuti nei cofanetti hanno un buon inci. Poi quando mi sono resa conto del prezzo davvero bassissimo, ho detto no, vabbè, questo lo acquisto e lo regalo a qualcuno della mia famiglia. La confezione rosa era completamente danneggiata, credo che i prodotti all'interno siano stati aperti, quindi non l'ho acquistata. Stavo per prendere quella marrone quando mi sono accorta che era rovinata, tagliata nella parte superiore, quindi alla fine ho deciso di non acquistarle. Però ragazzi, se le trovate e siete più fortunate di me che le trovate integre, mi raccomando provatele perché, vi ripeto, sia il bagno doccia che la crema fluida corpo hanno inci ottimi. Infine, 5,99 euro, confezione regalo donna, vivaci e armonie, della Vivo di Natura Bio. Anche questo avrei voluto acquistarlo, ma purtroppo non l'ho trovato. Forse sono andata troppo tardi, non so bene cosa dirvi, ma comunque non ce n'è la traccia. E anche questa confezione regalo ha un inci ottimo e contiene latte corpo e bagno doccia. Sono tutti prodotti proprio biologici. Infine, per i prodotti disponibili dal 13-12, ho visto che sono tornate queste stelline qui di Natale, che come vedete io ho già addobbato. Sono disponibili, in realtà nel mio punto vendita non le ho trovate. Queste stelline, proprio col fiocchettino rosso, e qui dovrebbe esserci la targhettina Sienne. E all'interno contengono due smaltini. E solo nello specifico, vedete, questi due piccoli, da 5 ml l'uno, e hanno un pao di 12 mesi. Io avevo già acquistato lo scorso anno un'infezione che contiene lo smalto rosso e argentato, ma ne esistono davvero di tantissimi colori. Secondo me è un'ottima idea regalo, perché a un prezzo stracciato vengono 2,99€. Gli smalti, naturalmente, sono qui all'interno e poi, come potete vedere, la persona che riceve il regalo può riutilizzare la stellina in qualsiasi modo. Comunque, la qualità di questi due smalti non mi piace tantissimo, perché ho notato che rispetto agli altri smalti Sienne vanno via più facilmente. Comunque, ragazze, con questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando, come sempre, un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di farmi sapere se avete regalato per Natale o avete ricevuto una o più di queste idee regalo. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Ciao!